Grazie a tutti. Non vogliamo insistere sul fatto che dobbiamo imporare la vita come un cammino verso l'eternità, perché o si imposta la vita come un cammino verso l'eternità, oppure i problemi della vita non trovano una soluzione. Prima di tutto prima della sofferenza. Perché se noi sappiamo che ci attende il paradiso, se avessimo la certezza che c'è il paradiso, se avessimo sperimentato nel nostro cuore cos'è il paradiso, non nel discoteche paradiso, dove si paga per entrare. Poi quando si esce si va a vomitare. Dunque, se noi avessimo la percezione di cos'è il paradiso, sopporteremmo tutto. Anzi, siccome comunque il paradiso lo possiamo già sperimentare in questa vita, nella preghiera. Quando nella preghiera abbiamo la grazia di scoprire che Dio ci ama. Allora, scoprendo che Dio ci ama, già sentiamo in noi il paradiso. Poi magari poi ci sfugge. dobbiamo riacquistarlo continuamente nella preghiera. Io per esempio me ne accorgo di tante persone che vanno a Meggiugorie e ritornano tutte contente. Che cosa hanno scoperto? Una cosa molto semplice. Hanno scoperto che abbiamo una madre, che è la Madonna, che ci vuole bene, che ci guarda con amore, che ci prende per mano, che ci accompagna, che è molto indulgente, che è molto paziente, che previene tante nostre sbandate e che quando cadiamo ci prende per mano, ci rialza, ci consola, ci dà la forza, ci aiuta. Se dovessi guardare indietro questi 22 anni che ha fatto Radio Maria, se non mi ha fatto a pezzettini, spezzatini di padre Livio, se non mi ha fatto a spezzatini è solo perché la Madonna ha usato il battipanni per difendermi. Questo per dire che quando uno scopre nella vita che ha questa madre, torna felice. Quindi è chiaro che senza la prospettiva dell'eternità, senza la prospettiva di Dio, senza la prospettiva del suo amore, della sua misericordia, la vita è un fardello pesante da portare. Noi l'abbiamo visto in questi giorni, al di là delle tante polemiche che ci sono state, però emerge chiaro un problema che è antico, che è antico, da sempre, da quando c'è l'uomo. Cioè perché la sofferenza, perché la morte. Tutte le religioni e le filosofie sono nate dal tentativo di dire perché, di risolvere il problema della sofferenza e il problema della morte. Chiaro, perché la sofferenza, perché la morte. Questo è il problema numero uno. Di tutte, l'uomo si arrovella sempre intorno a questo problema. Perché la verità è che noi nasciamo in una condizione di condannati a morte. Cioè non è che, per carità, il moratorio è sulla pena di morte, eliminiamo la pena di morte, ma chi viene condannato a morte e viene ghigliottinato semplicemente muore un po' prima di noi. D'accordo che c'è una certa differenza morire a letto e morire ghigliottinato, però sempre di morte si tratta. Perciò noi nasciamo tutti condannati a morte. Non c'è nessuno che nasca e che non è condannato a morte. Capito? E quindi giustamente Omero chiamava gli uomini immortali e chiamava gli dèi gli immortali. Nasciamo tutti condannati a morte. Cioè la condizione umana, la verità è questa, che la condizione umana è tremenda. In fondo Scalfere ha avuto un ballume di verità quando ha detto, ha detto, che differenza c'è fra l'uomo e la mosca. Dice, è che l'uomo sa che muore e la mosca non lo sa. Capito? Quindi allora noi siamo peggio delle mosche, alla fin fine. Cioè siamo condannati a morte e lo sappiamo dal momento in cui il bambino scopre che è morta la nonna, che è morto, capito? Scopre la morte, si spaventa, capisce che un'ombra oscura è sulla vita. Poi man mano che si avanza nella vita si scopre che la morte è anticipata, cioè la sofferenza è la morte che incomincia prima. La sofferenza fisica è di ogni genere e specie, la sofferenza morale, che è ancora più grande di quella fisica. Perché la sofferenza morale, non so, per esempio muore il marito, muore la moglie, muore gli figli, le ingiustizie che si subiscono. Le sofferenze morali sono tantissime. E poi le sofferenze spirituali, cioè la stessa condizione umana che non trova le soluzioni a meno che non ci sia la fede. Dunque, la vita sulla terra, nasciamo crocifissi. Gli esseri umani nascono crocifissi. Questo è il punto, qui non c'è nessuno che è privilegiato, nessuno esente. Allora, tutti oggi, oggi siamo tutti, oggi abbiamo fatto una grande discussione, c'è stata una grande discussione su come affrontare la sofferenza, che era incarnata in una ragazza ma che in realtà comprende innumerevoli sofferenze. Di quel tipo, ma anche peggiori, anche se vogliamo, basta andare al cottolengo, le vedi anche di peggiori. E perché non tutti nascono sani, molti nascono handicappati, molti nascono che sono dei mostri addirittura. Dunque, questa è la realtà, guardare in faccia la realtà è sempre un'ottima cosa. Allora, come si risolve questo problema? Oggi c'è un pericolo, ecco perché la battaglia, la lotta, la testimonianza, la battaglia ideale naturalmente, la battaglia delle idee, la lotta e la testimonianza. Oggi il pericolo, perché poi si incomincia, no? A Satana basta una fessura, io gli edovono mala prasnina, mi ricorderò sempre queste parole della Madonna, io una volta sulla montagna, a lei, perché Satana il croato è femminile, dunque, a Satana basta una piccola fessura, poi l'allarga, 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 capito? Infatti si è rincominciato con l'aborto come uno stupro, se c'è lo stupro, capito? Dicevano 30 anni fa, adesso l'aborto è diventato non solo un mezzo per, diciamo così, di contraccezione, ma addirittura di selezione, capito? Di eugenetica, capito? C'è l'aborto di massa, e così adesso si è voluto aprire un piccolo foro per creare una soluzione, la problema della sofferenza, che è quella che Satana vuole, perché Satana è il nostro nemico, ci vuole tutti i morti. Allora, qual è la soluzione, la problema della sofferenza, che è emersa in questi giorni, ma che però avevano già presenti gli antichi romani, gli antichi pagani? Oggi, noi a casa nostra, nei paesi di antica cristianità, si confrontano i cristiani e i pagani, che sono diversi da quelli di una volta, perché i pagani di una volta aspettavano il Redentore, i pagani di adesso l'hanno rifiutato. Come ha spiegato bene Giovanni Paolo II, gli ultimi tre secoli in Europa si contraddistinguono per il rifiuto di Cristo, e per la persecuzione contro la Chiesa. Allora, la soluzione che si è voluto proporre, che poi c'erano i poveri genitori, io i genitori non li ho mai condannati, li ho sempre criticati alle idee, perché? Per la semplice ragione che io qui a Radio Maria, l'ho detto anche in un'intervista pubblicata sul giornale, io a Radio Maria ho ricevuto tanti di quei genitori che hanno perduto i figli in incidenti, che voi non ci avete l'idea, e ho trovato delle persone distrutte dal dolore, distrutte dal dolore. E anche, vi dico che chi è uscito fuori in meglio sono quelli che hanno ascoltato il mio consiglio di andare a Međugorje, dove la Madonna, non so come dire, la fede, il fatto che anche la prima veggente di Međugorje, Ivanka, che è la prima che ha visto la Madonna e aveva perso la madre due mesi prima, e subito la prima domanda che le ha fatto è dove è mia madre, e poi la Madonna le ha detto tua mamma è con me in cielo, e poi la volta dopo le ha passato con la mamma vicina, che le ha detto figlia mia sono fiera di te. Queste cose ti aprono uno squarcio di speranza che nel mondo non c'è, dove non c'è la fede, cioè che i nostri cari non li perdiamo, capito? Però avendo visto tanti genitori anche con la fede fa una fatica immensa a superare il dolore da prendere tutto un figlio, io non mi sento di condannare nessuno, cioè figlioli cari, o hai la fede e la prospettiva della vita eterna e a loro sopporti tutto, come la Madonna ha sopportato tutto perché sapeva che il figlio sarebbe risorto. chiaro? Ma se non c'è la fede, la prospettiva della vita eterna, non ce la fai a sopportare, è difficile sopportare. E c'è la tentazione, qual è la tentazione? La tentazione del mondo moderno è questa, cioè non accettare, ecco la tentazione perché ci sono le tentazioni personali, ci sono le tentazioni globali, ma quelle globali sono pericolosissime. Qual è la tentazione globale questa? Non accettare la soluzione prima della sofferenza che ha portato Gesù Cristo con la croce, che ha assunto la propria sofferenza. Infatti il papà Peppino ha scritto un libro in cui dice che per lui questa soluzione di un crocifisso che assume sulle sue spalle il dolore del mondo è una cosa che non lo convince. Capito? D'accordo, non lo convince, allora qual è la soluzione? La soluzione è la eliminazione dei sofferenti. Questa è la vera, la tentazione, la tentazione, capito? Che se si apre uno spiraglio distruggerà il mondo. Perché? Perché invece della compassione, che questa è la risposta cristiana, invece della compassione per la sofferenza e invece della carità per la sofferenza, sì, attenzione, nessuno dice mai che non c'è la compassione. Capito? La compassione, noi guardiamo la compassione del figlio di Dio verso la sofferenza. cioè Dio ci ha dimostrato cosa dobbiamo fare noi nei confronti della sofferenza perché non bisogna dimenticare che Dio se fatto uomo ci ha liberati dal peccato ottenendoci il perdono di Dio e la remissione dei peccati ci ha liberati dal potere di Satana per cui noi con la preghiera possiamo vincerlo. Ci ha elevato la dignità dei figli di Dio per cui possiamo chiamare Dio con il nome di Padre ha fatto di noi il Tempio della Santissima Trinità ci dà il suo amore quotidiano la sua luce quotidiana la risposta all'enigma della vita per cui sappiamo da dove veniamo e dove andiamo ci ha aperto la prospettiva della vita eterna ma non ci ha tolto né la morte né la sofferenza non ce le ha tolte non ce le ha tolte cioè Gesù non ci ha tolto la sofferenza non ci ha tolto la morte però ci ha detto che la sofferenza diventa con lui una forza di redenzione e che la morte diventa con lui l'ingresso della vita eterna ora questa è la cioè noi e difatti noi vediamo Gesù noi vediamo Gesù Gesù è Dio Dio che viene fra noi e Gesù ci manifesta nei confronti dell'umanità malata qual è il giusto atteggiamento nei confronti dell'umanità malata sono tutti malati sapete di ogni genere specie nei confronti dell'umanità malata Gesù Dio Dio ha compassione Dio ha compassione Dio ha avuto talmente compassione di noi che si è fatto uomo si è fatto uomo capito e questa è la sua compassione ha voluto essere il nostro fratello e Gesù nei tre anni della sua vita ha manifestato la compassione di Dio per gli uomini ma guardate guardate come voi se voi leggete i Vangeli come ha passato i tre anni della sua vita Gesù Cristo cioè mica li ha passati come gli altri leader religiosi scusate io con tutto il rispetto che io personalmente ho per i musulmani perché essendo stato un anno in mezzo ai musulmani d'accordo che ero in un paese particolare in Africa che l'africano è un uomo religioso d'accordo che quando io sono andato non c'erano le tensioni di adesso però io vedendo i musulmani pregare ma non nelle moschee in piedi davanti alla spiaggia ho detto questa è gente che crede in Dio quindi con tutto il rispetto che posso avere per i musulmani e per il loro sentimento di sottomissione a Dio però scusate a voi risulta che il loro profeta abbia curato i lebrosi risuscitato i morti sfamato gli affamati e accarezzato i bambini e emancipato le donne liberato eccetera risuscitato i morti vi risulta a voi Maometto era un grande uomo di questo mondo capito era un grande uomo di questo mondo capito c'è niente da fare ecco ma Gesù Cristo come ha passato i tre anni della sua vita dunque dunque passava la giornata così predicava predicava la parola di Dio illuminava le menti liberava dall'ignoranza capito dopo la predica cosa faceva passava in rassegna passava perché dopo la prima volta che la gente ha visto che liberava dei demoni guariva gli ammalati voi immaginate le schiere di ammalati che c'erano capito non c'erano ospedali poi allora capito Gesù cosa faceva liberava dei demoni curava decine centinaia migliaia di ammalati per cui per cui molti guarivano semplicemente al fatto che toccavano il lembo del suo mantello capito curava gli ammalati ai quali chiedeva semplicemente la fede non chiedeva non chiedeva il ticket per dire no sanitario ma semplicemente chiedeva la fede guariva gli ammalati questo è l'atteggiamento che Dio ci ha insegnato Dio ci ha insegnato verso i malati la compassione la compassione ci ha insegnato è una cosa che dovremmo capire imparare perché Gesù Cristo ha cambiato il mondo cioè o il mondo va come dice Gesù Cristo perché questo è il tempo nel quale viviamo o il mondo va come dice Gesù Cristo o in poco tempo in pochi anni noi costruiamo l'inferno e ci autodistruggiamo questa è la tese del mio libro l'ora di satana che dico qui dico oggi c'è un attacco di satana all'umanità un attacco talmente grave che potrebbe portare anche alla fine del mondo ma questa è la verità di fatti la Madonna nel messaggio che ci ha fatto a ottobre ci chiede di aiutarla con la preghiera il digiuno a fermare il piano di satana che ha messo se stesso al posto di Dio e che vuol distruggere tutto ciò che c'è di buono e di bello nel cuore degli uomini la prima cosa che vuol distruggere è la compassione è la compassione la misericordia la pietà la solidarietà i tenessi per mano allora qual è però l'inganno satanico che è acutissimo l'inganno satanico è questo che lui se tu a me capita vado anche io navigo in internet non ne vedo tutti i colori per esempio adesso loro sono lì pronti a tirare fuori le frasi di stasera e poi vedrai tu che le ultime sparate capito dunque stai attento stai attento qual è la loro trovata ultima l'ultima trovata di satanico è molto semplice è questa che per loro la compassione in fondo questo è quello che è emerso in questi giorni anche dalle illusioni che ha fatto il papà il signore Ingraro che ha detto 17 anni mia figlia là dalle sore misericordine 17 anni mi tortura c'è in poche parole il fatto che si sia dovuto in vita questa persona che si sia curata che sia per lui è stata una tortura è stata torturata per 17 anni ma allora lui lo fa con una logica incredibile bisogna affrontarlo sul piano della logica allora qual è la vera quella che noi riteniamo e che Gesù ritiene lui che curava i malati capito la ritiene ciò che noi cristiani riteniamo compassione viene ritenuta tortura e quella che noi riteniamo invece crudeltà loro la propongono come compassione cioè qual è la vera compassione la vera compassione è eliminare queste creature che non hanno la vita normale come la nostra questa sarebbe la soluzione al problema della sofferenza cioè caput caput io ho visto scusate ma guarda che ormai sa andando avanti negli anni un po' dispiace perché non si è più giovani ma certe cose si capiscono soltanto andando avanti con gli anni ormai mamma che vado avanti con gli anni queste cose le capisco ben chiare le capisco chiarissime io in questi giorni ogni tanto mi vedo dei film perché io amo l'arte leggo dei romanzi vedo dei film la gente dice come fa a trovare il tempo diceva Seneca ce n'è di tempo se volessimo usarlo è che non lo usiamo male mi sono visto un film gli ultimi giorni di Hitler un film che ha preso un sacco di Oscar spettacolare meraviglioso che ti insegna tante cose dunque in questo bunker di Hitler in questi ultimi 10 giorni era una cuccagna si ammazzavano tutti uno dopo l'altro un pam 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 tutti uno dopo l'altro era verissimo il film cioè una ricostruzione storica perfetta capito? a un momento qual è la soluzione prima della vita? è spararsi spararsi pochi o quasi nessuno è uscito fuori da questa logica pensate pensate alla famiglia Goebbels è quella da studiare la famiglia Goebbels è tutta da studiare lui era il ministro della propaganda no? e lei era sua moglie avevano quattro figli però lì ce n'erano sei di bambini piccoli belli, biondi una cosa spettacolare proprio non so se due erano suo nipote non so cos'era erano sei comunque gli dice oi mi perlano quattro questa madre ha avuto il coraggio siccome il nazionale socialismo cioè Hitler crollava lei non voleva che i suoi figli vivesse in una Germania dove non c'è il nazionale socialismo no? allora cosa ha fatto poveri bambini uno per uno gli ha messo il sonnifero in bocca ma ancora più grande se ne è accorta non lo voleva e la mamma gliel'ha fatto ingoiare giù con la violenza sei bambini che erano a letto dopodiché a ognuno quando mentre dormivano ha aperto la bocca ha aperto la bocca una pastilla di cianuro per uno in cinque secondi sono morti tutte e sei dopodiché lei e suo marito sono sparati alla tempia tutte e due capito questa è la soluzione al problema della vita mi chiedo guardate qui guardate che la logica è questa sapete la logica è questa di fronte alla sconfitta ma dopo una cosa incredibile tutti siamo alzati un dopo l'altro ma questa questa mentalità qui uno dice ah ma tu Hitler ragazzi miei io vi dico che Hitler era un ateo e gli atei i atei risolvono il problema della vita in questo modo gli atei risolvono il problema della vita sparandosi sparandosi perché ovvio non c'è Dio non c'è Dio da dove veniamo? dal caso capito? il mondo ha fatto gli animali poi è venuto fuori gli uomini eccetera dal caso dove finiamo? nel nulla e chi me lo fa fare scusa se io già a 80 anni muoio chi me lo fa fare è portare a tirare la caretta adesso che sono malato finisco prima cioè l'auto l'annientamento personale e attenzione qui è il punto l'annientamento di massa è la tentazione di oggi di Satana e viene presentata come un atto di compassione è la vera pietà cioè la vera pietà sarebbe di eliminare la vita umana sulla terra perché è insopportabile effettivamente ragazzi non è che la vita umana io da un certo punto di vista non è che cioè da un certo punto di vista li capisco perché bisogna cercare di capire gli uomini cioè diceva il bene Jean Paul Sartre che è uno dei grandi teorici dell'attismo contemporaneo lui diceva se non c'è Dio non c'è nessuna ragione di esistere solo che lui se la spassava per bene comunque se l'ha sempre spassata lui capito poi prima di morire si è fatto un bel programma televisivo che è durato due ore per trasmettere il suo messaggio all'umanità poi l'hanno ripreso forse l'hanno trasmesso in Francia non in Italia e chi si ricorda di lui? chi si ricorda di lui? il sottoscritto Padre Livio si ricorda di lui capito? ma nessun altro dunque questo per dire che li capisco da un certo punto di vista perché se non c'è Dio chi me la fa fare? la faticaccia di vivere senza Dio ecco perché ragazzi io qui io parlo con la Madonna in tasca cioè la Madonna cosa ha detto? a Natale senza Gesù Cristo per voi non c'è futuro ma guardate che queste frasi qui della Madonna la Madonna le ha mai dette le ha mai dette le ha mai dette in tutte le sue apparizioni le dice oggi perché siamo arrivati alla resa dei conti ma già l'aveva visto bene Romano Guardini quarant'anni fa siamo arrivati alla resa dei conti la resa dei conti è questa detta in parole povere che ci sono due schieramenti lo schieramenti lo schieramento della speranza che va al di là dei cristiani lo schieramento della speranza va al di là dei cristiani per fortuna perché la grazia di Dio opera un po' ovunque lo schieramento della speranza che crede in Dio che crede nella bellezza della grandezza della vita che crede nella vita eterna lo schieramento della speranza per cui la vita in ogni caso vale la pena di essere vissuta come ha detto la Madonna Meciugorie nella fede scoprirete la bellezza e la grandezza della vita certo noi cristiani alla luce di Gesù Cristo che si è fatto uomo scopriamo la bellezza e la grandezza della vita anche delle vite apparentemente mutilate però dove Gesù è vivo è vivo è presente avevo fame mi desse da mangiare avevo sedi mi desse da bere eccetera ma anche fuori dal cristianesimo per esempio anche i musulmani comunque hanno in Dio una prospettiva di eternità a modo loro credono nel paradiso sia pure sia pure descritto a modo loro però credono cioè voglio dire hanno una visione tutto sommato positiva della vita cioè che sono un critico dell'Islam perché è una religione di questo mondo anzi dunque è molto di questo mondo l'Islam però devo dire che comunque rispetto al nichilismo occidentale ha comunque delle sottolineature positive cioè i musulmani ci credono nella vita sono positivi verso la vita gli fanno un sacco di figli diciamo non è che non facciamo i figli ecco allora c'è questo schieramento della speranza e c'è lo schieramento come possiamo chiamarlo della disperazione della disperazione ma io quello slogan che ha messo sul bus di Barcellona di Londra che volevo mettere sul bus di Genova dunque allora allora adesso qui di Youtube stanno prendendo nota dunque su queste cose non ci sguazzano dunque il partito della disperazione in fondo su quel bus dice no è stavendo una cosa sacrosanta no cioè poi per le conseguenze forse Dio non c'è ha messo il forse perché va pur di prendere la multa solo per quello ecco per loro Dio non c'è allora godiamoci la vita d'accordo questa è la loro soluzione prima della vita scusate e chi si gode la vita secondo voi chi si gode la vita scusate dico chi non ha il lavoro si gode la vita chi non arriva a fine mese si gode la vita gli handicappati si godono la vita i disparati si godono la vita i separati si godono la vita facciamo l'elenco i malati si godono la vita chi si gode la vita chi si gode la vita ormai nelle piazze a dire che la vita è bella ci sono solo i gay e basta è vero loro dicono sono felici siamo felici siamo felici ci sono solo loro ormai dire che la vita è bella capito ma ditemi voi chi si gode la vita oggi chi si gode la vita siamo polli d'allevamento spennati da mattina a sera e ci danno pure il mangino ci danno pure il mangino avariato ci danno pure da mangiare allora scusate godiamoci la vita e la vita non si può godere guardate che io sono un prete dico ho passato la mia vita a consolare gli altri so cos'è la vita io le consolazioni prendo dalla madonna mi faccio consolare la madonna poi passo la mia vita a consolare gli altri a incoraggiare gli altri a dare la mano agli altri a sorridere agli altri come è giusto perché per questo Gesù Cristo è situato i preti d'accordo ma devo dire che la mia vita è stata esattamente nel suo piccolo prete rivive la vita di Gesù Cristo cioè gli va a dire un sacco di gente disperata disperata se dovessi stampare gli email che mi arrivano una giornata non so almeno 100 email devo dire la parola della consolazione cioè la gente anche i credenti sono sotto la croce anche perché i credenti sono provati da Dio perché padre pota perché diano più frutto anche perché il diavolo poi non tranquillo che il diavolo quelli che sono sulla via della perdizione non li fa mai forare la gomma quelli anzi capito mi ne mette la benzina dentro perché arrivino prima capito quindi Sadra lascia stare non disturba quelli che sono sulla via della perdizione anzi capito li ingrassa ma quelli che sono sulla via della salvezza li perseguita in tutti i modi capito quindi il concetto di godersi la vita è campato per l'aria allora scusate se Dio non c'è la vita non si può godere cosa si fa secondo voi cosa si fa sono dunque c'è il partito io chiamo il partito della disperazione che risolve il problema della sofferenza del senso della vita senza Dio con che cosa con l'esecuzione ma guardate che loro guardate se voi prendi vari veronesi questi scienziati la colala di Trieste come si chiama la marita guardate io dico il paradiso non può mancare un'esemplare del genere pregate per lei un'esemplare del genere deve forse andare in paradiso è troppo simpatica è troppo simpatica dunque dunque mamma mia io fossi io fossi fosse padre eterno gli manderei l'angelo che gli fa solitico sotto il letto capito per vedere poi che va padre Amos magari lei che poi sono così poi capite c'è gente che poi superstiziosa ha paura lasciamo perdere dunque io dico c'è questo partito c'è questo partito della disperazione che 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 dicevano cercano di risolvere i problemi di assurdo in modo assurdo per esempio quello che ormai sta affermandosi su vasta scala provocando milioni e milioni di delitti è la eugenetica che cos'è la eugenetica è praticamente cioè la tecnica con la quale si individua in un embrione appena concepito se c'è qualche difetto se c'è qualche difetto lo si elimina chiaro? questa è la eugenetica non solo non bastano i difetti magari basta che non sia di gradimento che siano i capelli biondi io voglio bruno sai come quando si va dal sarto capito eccetera come si va dal coiffeur eccetera uguale no non viene così cambio la parrucca eccetera si elimina l'eugenetica perché si pensa ci si illude ma questa è una stupidità unica ci si illude di eliminare la sofferenza ma scusate ma quanti ragazzi buoni e sani che nascono e si impiccano e si ammazzano e allora cosa abbiamo risolto? cosa abbiamo risolto? è quello che mi chiedo io senza contare poi tutti quelli che le malattie che elimina le malattie ma anche i medici fanno quel che possono poveretti ma comunque muore si muore cioè stiamo lì a selezionare seleziona 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 comunque per quanto tu selezioni cioè sono proprio stupidi anche perché ah ormai il collegio inetica mi ha risolto il problema degli ospedali figurati te ma in ogni caso ma mettiamo pure che li fai proprio perfetti capito? li fai proprio perfetti cioè dei malattie buongiorno della fine carla piccolissimi no? quelli perfetti sono proprio che li fai perfetti comunque tu metti al mondo due condannati a morte fossero pure perfetti biondi con gli occhi azzurri sono condannati a morte è vero o non è vero? e allora come la risolvi questa storia caro Veronesi? dimmelo tu come la risolvete la sofferenza la morte voi che non credete in Dio come la risolvete con l'esecuzione alla fin fine con l'esecuzione cioè prima san Rafa più che si può si guarda più che si può e dopo e dopo e dopo uno si spara ragazzi ecco il partito della disperazione è come dicono i francesi il cul de sac cioè è nel fondo del sacco non esce fuori da lì è impotente di fronte all'enigma della vita impotente per cui io dico è per quello che sono ottimista sono ottimista perché alla fine o Gesù Cristo o la morte o Gesù Cristo o Gesù Cristo perché l'unico Gesù Cristo è l'unico a parte tutta la sua vita a parte che il figlio di Dio si è fatto uomo la sua vita dove ha espresso la compassione di Dio il perdono di Dio la misericordia di Dio ha portato sulla terra la bontà l'amore la compassione la comprensione l'accoglienza ha emancipato la donna ha emancipato i bambini che erano cose da buttare via anche i bambini mica solo le donne ragazzi non c'è la storia gli schiavi ha emancipato ha risuscitato i morti o la compassione e l'amore e la fede in Dio che si è fatto uomo che è risorto che ha riscattato la condizione umana che ci ha preparato una eternità di gloria o la disperazione ma il partito di disperati è un partito pericoloso ragazzi miei perché è un partito pericoloso? perché prima incominciano con l'annientamento individuale un domani finiscono l'annientamento collettivo l'annientamento collettivo come può essere? è molto semplice facciamo un tipo di disperazione perché adesso andiamo verso una crisi economica che non so come andrà a finire non si sa come andiamo a finire però una cosa è certa è che quando gli stati incominciano a pensare a se stessi incominciano gli egoismi di gruppo si preparano alle guerre basta sapere un po' la storia è sempre così la crisi economica la crisi del 29 ha portato alla guerra negli anni 40 la guerra mondiale allora capito però se c'è il partito della speranza il partito della speranza capito non tenta di risolvere i problemi della sopravvivenza con le armi ma il partito della disperazione dice capito dice o capito o io o tu insomma a chi la tocca la tocca a chi la tocca la tocca ma questi sono i ragionamenti che si stanno facendo adesso negli alti piani della city di Londra si fanno questi ragionamenti no questi ragionamenti capito diamo una bella scrollata capito mettiamo vabbè insomma spegniamo i due terzi dei polli e così risolviamo la crisi economica e vabbè pazienza un terzo dei polli sopravviverà e andrà avanti l'umanità il periodo della disperazione la rischia di portare l'umanità in una crisi in una crisi perché il periodo della disperazione è il periodo del nichilismo per cui gli esseri umani sono cari da macello cari da macello capito buttiamoli mandiamoli all'attacco un po' di grappa e avanti capito questo l'hanno fatto in tutte le guerre allora il periodo della disperazione mette a rischio il futuro dell'umanità e questo il questo è il contesto nel quale noi stiamo vivendo adesso però quello che mi preme sottolineare è l'inganno che noi abbiamo nel quale sono caduti anche molti cattolici in questi giorni molti cattolici che però che alcuni mi dicono ah io solo vado in chiesa io qua io vado su ma sono d'accordo con lei io dico scusate come può un cattolico non capire che tu non puoi ammazzare una persona per compassione che quella non è compassione quella è la falsa compassione quella è la compassione di satana Gesù Cristo quando aveva compassione cosa ha fatto? ha accarezzato ha guarito ha risuscitato ha liberato da satana ha dato da mangiare Gesù Cristo e ha detto avevo fame mi deve essere da mangiare avevo sete mi deve essere da bere eccetera 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 questa è la compassione vera la compassione è il significato di Dio ma come possono certi cattolici come possono certi cattolici prendere per compassione ciò che è il contrario della compassione cioè la compassione cura le ferite la compassione dà amore la compassione dà speranza la compassione trasmette vita non morte allora dobbiamo essere molto anche perché da alcuni sondaggi alcuni sondaggi dicono ah ma sa specialmente i giovani erano d'accordo per questa risoluzione cioè che alla fine non valeva non voleva cioè non valeva la pena vivere così eccetera ma io non mi scandalizzo mica perché i giovani ma che scusate perché secondo voi i ragazzi di oggi ma non è che io ce l'abbiamo che i ragazzi di oggi no non sono capaci neanche di sposarsi cosa sono capaci di fare non sono cioè sono capaci di sopportare niente li avevamo allevati come li avevamo allevati senza senza spirito di sacrificio io quando avevo 4 anni da 4 anni e mi ricordo benissimo che di notte andavo sotto i ponti perché bombardavano l'estrovolimento della dama dove facevano dove facevano le armi capito erano in mezzo alla guerra so benissimo che la fame tutto poi il seminario la disciplina tutto capito noi siamo combattenti ma i nostri ragazzi cosa sanno fare cosa sanno fare secondo voi sono fragili hanno paura di sposarsi fanno 15 anni di fidanzamento 15 giorni di matrimonio dopo scappano hanno 45 anni scappano a casa dalla mamma ma scusate e vi meravigliate che questi ragazzi sappiano affrontare proprio la sofferenza secondo voi ma per carità popcorn popcorn non si può dire altro ragazzi ve lo dico perché non siete di cioccolato non siete persone dice per carità a meno che non siate mariani a meno che non siate seguanti di Gesù Cristo militanti cristiani ma se no che cosa sono quei ragazzi che vanno in discoteca ma che cosa sono parlano dalla cintola in giù linguaggio scrementizio ma io li vedo io frequento i blog i blog tu devi prendere le odoranti le frequentali è una cosa incredibile non conosco nessuna parola di italiano conosco solo le parole le parole 10-8 7-8 parole che in tutte le salse le mettono sono le parole della cintola in giù e basta non sanno altro questa è la loro cultura cosa volete dire ragazzi allora non mi meraviglio affatto dico non mi meraviglio affatto che che i ragazzi di oggi erano tutti d'accordo per la facile soluzione capito ma ragazzi allora voi cosa fate di fronte alle difficoltà della vita ogni volta che c'è una difficoltà ci mette le armi ci mette le armi non siete capaci di combattere basta quei ragazzini prendono un cattivo voto di scuola e si punte giù dal quarto piano bisogna resistere ragazzi bisogna soffrire ma la sofferenza guardate la sofferenza non parlo della sofferenza estrema perché quella ci vuole una grazia speciale ma nella vita la sofferenza ragazzi è quella che fa crescere le persone che non soffrono sono superficiali io mi ricorderò sempre nel 1985 allo centro di San Siro perché la mia parrocchia è proprio di San Siro ci fu una grande giornata della vita era lo stato pieno 80.000 persone a quei tempi eh 80.000 dunque c'erano sì c'erano 80.000 persone era stra pieno non so nel 1975 forse era comunque c'era la madre Teresa di Calcutta che venne a parlare era una manifestazione contro l'aborto e fecero parlare molti malati io mi ricordo mi ricorderò sempre un intervento di un malato che mi è rimasto impresso da allora adesso come se parlasse se l'avessi sentito adesso un malato disse era in carrozzina mi disse un malato non non compassionateci disse perché noi la nostra malattia ci abbiamo ben stretta perché con la nostra malattia siamo stati costretti a vivere in una dimensione molto più profonda e abbiamo scoperte cose che diversamente non avremmo scoperto questa è la verità perché quando si mangia quando fratello Asino che è il nostro corpo è a tutte le attenzioni noi noi cosa noi cosa facciamo che ci identificiamo con il nostro corpo non curiamo la nostra intelligenza la nostra sensibilità la nostra profondità il nostro mondo interiore siamo siamo affascinati dalle cose che passano non cogliamo le cose eterne non ci pogliamo il problema del senso della vita chi soffre cresce chi soffre matura chi soffre diventa forte senza senza sofferenza siamo gente superficiale questa è la verità la sofferenza plasma gli uomini la sofferenza fa gli uomini e perciò alla nostra generazione alla generazione dei ragazzi d'oggi manca questo cioè manca la sofferenza e quindi sono fragili di fronte alla vita non sono allenati di fronte alla vita hanno paura hanno paura di decisioni irreversibili io mi ricordo quando ero bambino avevo 13 anni e avevo 13 anni ma io avevo già ben chiaro che se mi facevo prete mi facevo prete per tutta la vita e dopo quando ho scelto ho scelto per tutta la vita mai ho messo in dubbio questa scelta magari lo farò compito di colori perché in seminario ero l'ire di Dio però mai ho messo in dubbio la mia scelta ma se io scusate invece di fare questa scelta di aver portato avanti questa scelta di essere stato tenaci su questa scelta avessi fatto ma aspettiamo magari ho davanti 10 strade aspetto 60 anni scegliere una la vita è finita capito gli amici se ne vanno inutile serata cosa dovrete fare avrei sprecato la vita cioè i ragazzi oggi fanno così mi tengo davanti tutte le possibilità consumo la vita come una candela dopo che è finita è finita c'è una sola candela c'è una sola candela nella vita man mano che si consuma il tempo la cera è bruciata non ce l'avete più in mano perciò ragazzi non mi meraviglio che i ragazzi di oggi di fronte ad un problema della sofferenza optano in maggioranza optano in maggioranza per farla finita ma questa è questa è perché la madonna è qui perché questa è la tentazione di oggi cioè il mondo senza la luce di Dio senza la luce dell'eternità capito la vita non ha senso e si tende a goderla e non riuscendo a goderla la si distrugge e guardate che molti ragazzi la vita la distruggono non tutti hanno il coraggio distruggere con un colpo secco la distruggono a colpi di spillo capito mi drogo oggi mi drogo domani un bicchierino a mattino un bicchierino alle 10 un bicchierino alle 11 un bicchierino l'alcol la droga eccetera eccetera capito il sesso vagabondo eccetera 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 alla fine hanno 30 anni sono rottami rottami è un modo per suicidarsi allora qual è andiamo andiamo siamo tutti tutti uomini santa pace siamo tutti tutti condividiamo la condizione umana non è che io sia diverso dagli altri però dico chi non crede in Gesù Cristo mi dica allora che soluzione dà al problema della vita siamo sinceri fino in fondo che soluzione dà al problema della vita è questa voi dite questa soluzione chi può la gode chi non può crepi ma io dico ma chi può la gode cosa gode mi dica il godimento mi dica il godimento scusate qual sarebbe il godimento che io quando ho preso una bistecca mi prendo la caserza dico non è che tu col tuo stomaco cosa fai il corpo figurati il corpo cosa vuoi godere poi in un mondo dove cammini sui serpenti sui scorpioni devi guardarti dietro a chi ti colpisce capito ma ma è così quando siamo in un mondo in cui se uno ti dà la mano uno si tocca il portafoglio questo è il mondo nel quale viviamo cosa vuoi godere allora io dico però io dico questa è una situazione che non mi spaventa sapete questa situazione che viviamo non mi spaventa perché noi andiamo noi andiamo noi stiamo andando veloci come diceva già Romano Guardini e gli schieramenti diceva Romano Guardini gli schieramenti ci sono già ci sono due soltanto io li chiamerei lo schieramento della speranza e lo schieramento della disperazione ci sono già i due schieramenti e lo schieramento della disperazione è quello di cui parlava Kierkegaard no che sono su una grande nave che sta bruciando ma tutti ballano e trincano capito questo è il partito della disperazione sono su una nave che brucia ma trincano e ballano allora gli schieramenti sono già da anni sono lì adesso stiamo andando la resa dei conti la resa dei conti sapete qual è la resa dei conti è semplice che stiamo andando Dio ci porta a una situazione tale è per quello che è qui la Madonna come è detto bene Miriana come è detto Giovanni Palosecondo perché io non è che inventi Giovanni Palosecondo ha detto l'umanità è albidio c'è la via della vita e la via della morte quale delle due vie vuol prendere la Madonna ci ha detto nel suo penultimo messaggio avete preso la via della morte siete sulla strada sbagliata dove la parola sbagliata vuol dire cattiva siete sulla strada della perdizione ha detto la Madonna nel suo penultimo messaggio ha detto quello del 25 gennaio la Madonna ha detto dunque Giovanni Palosecondo siamo albidio siamo albidio mi ricordo che Miriana nell'intervista che vi ho fatto sette o'ott'anni fa disse riguardo i dieci segreti disse che siamo albidio la Madonna si è messa davanti alla via della morte per dire di qui non dovete passare però la Madonna ci ha detto che noi siamo su quella strada lì sulla strada della morte sulla strada della disperazione sulla strada dell'autodistruzione stiamo dunque stiamo andando alla resa dei conti la resa dei conti quale sarà che poi sarà un momento di grazia la resa dei conti è che una delle due in quel momento lì della resa dei conti in quel momento lì della resa dei conti o si sceglierà per Gesù Cristo che è la salvezza di tutti e la Madonna ci ha detto che voi vi ho scelto voi che siete umili per realizzare cose grandi avete nel messaggio di novembre e noi siamo qui perché per aiutare quelli che non hanno la fede in Gesù Cristo ma che si attaccheranno capito i nostri calzoni in quel momento allora è un momento di grazia perché arriviamo al punto in cui il momento in cui andiamo di corsa ormai che è il tempo dei dirci segreti è un momento in cui o o scegliamo per Gesù Cristo o scegliamo per l'autodistruzione per l'annientamento per l'inferno su questa terra per la morte eterna per l'inferno questo è il punto dove noi stiamo correndo a tutta velocità perché bisogna pur capire perché la Madonna è qui da così tanto tempo e nell'ultimo messaggio del 2 febbraio la Madonna ha detto che di pazienza il Padre Eterno non ha avuto già tanta capito non ha detto lei che anche lei è stata molto paziente capito la pazienza del Padre Eterno l'abbiamo vista nella pazienza della Madonna però ha detto non siete padroni del tempo come dire stiamo arrivando alla resa dei conti la resa dei conti è quella della fede prima della resa dei conti c'era il segno sulla montagna quando io parlo di resa dei conti è la resa dei conti tutta spirituale sapete? è una resa dei conti tutta spirituale cioè o scelgo per Gesù Cristo e mi affido alla potenza della sua grazia alla sua parola ho fiducia in lui mi getto nelle sue braccia credo nella sua misericordia credo nella sua potenza di liberazione capito credo credo che lui vincerà il demonio lo distruggerà preparerà un tempo di pace per il mondo o credo questo come quando io nel momento della morte credo che incontrò Gesù Cristo invece di avere questa fede capito o credo questo e mi affido e vivo questo oppure oppure cosa faranno gli altri faranno come Goebbels e la sua famiglia la disperazione risolvono il problema della disperazione con la morte cioè il partito della disperazione o della falsa compassione o dell'autosalvezza cioè si salvano da soli capito che adesso sono tracotanti sono tracotanti dopo basta che il Padre Eterno sta nudi vedi tu come sono tracotanti cioè sono tracotanti non mi viene a ridere la Repubblica non so un giornale come quello dopo dopo ci sono passo un mese che non piove ma come mi dici che non credo nel Padre Eterno quasi quasi te la piovi con il Padre Eterno perché non piove la dici da un mese e incominciano dove si pregano nelle chiese ma dico ma cioè la cosa buffa ma lo dice Gesù Cristo nel suo Vangelo nei tempi della grande prova sapete cosa fanno gli atei sapete cosa fanno gli atei nel tempo della prova bestemmiano Dio capito nel tempo della prova bestemmiano Dio fanno quello allora invece nel tempo della prova noi dobbiamo dobbiamo affidarci a Dio chiedere la sua misericordia chiedere la sua salvezza allora questo è il tempo nel quale noi siamo chiamati siamo chiamati a noi a mettere in pratica ma nel medesimo tempo a dare la grande vera soluzione al problema della condizione umana perché di questo si tratta cioè la condizione umana gli uomini nascono soggetti alla malattia alla vecchiaia alla morte alla cattiveria la condizione umana è crucifissa rispetto alla condizione umana noi cristiani facciamo quello che ci sia da fare Gesù Cristo cioè noi siamo mani tese noi siamo apposti dell'amore testimoni della pace noi portiamo la compassione portiamo l'amore portiamo la vita questo è il nostro portiamo la speranza questo noi siamo chiamati a fare e dobbiamo farlo e naturalmente ci diranno quello che ci diranno non ci interessa però l'importante è che lo facciamo cioè noi facciamo quello che ha fatto Gesù Cristo lo prolunghiamo lo portiamo avanti lo testimoniamo con forza questo vuole la Madonna da noi la Madonna è venuta qui perché siamo fedeli a questo portiamo la compassione di Dio nel mondo l'amore di Dio nel mondo portiamo l'unica soluzione al problema della vita che è Gesù Cristo risorto non ce ne sono altre non ce ne sono altre dobbiamo essere tenaci in questo forti in questo basta poi gli altri facciano qualche voglia che a noi non ci interessa poi alla fin fine figlioli cari alla fin fine in tutta questa vicenda nel piccolo che abbiamo che abbiamo visto sentito quali sono le uniche parole che sono rimaste sono quelle che ha detto il paro con ieri dice la chiesa quando celebra il funerale celebra l'ingresso nella vita eterna della persona poi alla fin fine questa è la parola che vince perché 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 non bisogna dimenticare che questo mondo non è nato dal caso non è nato non siamo qui per caso questo mondo Dio esiste Dio che è amore ha creato questo mondo per amore l'opera della creazione della redenzione è un capolavoro io ammiro l'opera di Dio mi complimenterò con lui si mi porterà in paradiso dico piacere lei è un genio l'opera della creazione della redenzione è formidabile un'opera di Dio poche roba che ha fatto un'opera grandiosa capito e nel mondo è entrato il male la sofferenza la morte per l'invito del diavolo e noi abbiamo abbiamo seguito il diavolo e disprezzato Dio capito ma il mondo Dio non aveva fatto il mondo così però Dio ha avuto compassione di noi si è fatto uomo e ci ha riscattati ci ha redenti però non ci ha tolto la sofferenza e la morte sapete perché? perché se no gli abbiamo fatto le corno un'altra volta garantito come loro capito passata la festa ha gabbato lo santo ci ha lasciato la sofferenza e la morte la sofferenza e la morte sono il guinzaglio con cui Dio ci porta in paradiso capito l'opera di Dio è meravigliosa meravigliosa e terminerà con la vita eterna capito questo è tutto come testimoniare la speranza in questo mondo di disperati la compassione in questo mondo che vuole risolvere il problema della sofferenza e della morte con l'autonientamento ma dico non lo so capito e bello è che poi quelli inferonesi di Scarpic tutti quelli che sono tutti sono otti 90 anni eccetera capito tengono duro bravi bravi bene carissimi abbiate fiducia nella Madonna la Madonna è qui con noi la Madonna ci guida la Madonna è madre la Madonna ci vuole bene la Madonna ama tutti per la Madonna non esistono i figli i figliastri anche gli ati sono suoi figli anche quei delle altre religioni sono suoi figli la Madonna la Madonna per la Madonna sono tutti suoi figli c'è poco da fare e la nostra madre è qui con noi e ci preparerà un tempo di pace ma nel frattempo ci chiede chiede il nostro aiuto e il nostro aiuto e il nostro aiuto Grazie.